Con questo bellissimo cielo io e Max ce ne andiamo a spasso a farci una bella spesa insieme che non vedevamo l'ora Max ci sei? Sì, stiamo andando verso il sole qui Esatto, stiamo andando verso il sole quindi non vediamo niente Però era un bel po' che programmavamo una volta di farci una spesa solo io e lui In realtà non siamo proprio soli C'è Bia con noi! Sì, che mentre andiamo ha già fatto anche i suoi doveri Adesso dobbiamo aspettare di arrivare a un cestino dell'immondizia Vero piccola caccona? Voilà Andiamo a Biucia Siccome vogliamo sfruttare questa giornata di sole stiamo andando a piedi con il terretto Dove sei? Ah di qua, di qua Ok Dove andiamo? Stiamo andando a Lidl Oh, la nostra meta preferita Massimo addirittura con la pelpa soltanto Io effettivamente sì, c'ho la giacca anche abbastanza lunga Perché in realtà è la prima volta che metto la gonna d'inverno in questa stagione E quindi ho bisogno di qualche cosa in più che mi copre Dovano prendere gambe Però è caldo, è veramente caldo Sì, assolutamente sta bene Si sta benissimo Brava! Spingi tu? Sì Sì Siamo arrivati, entriamo Buona spesa, Bia Prendiamo il pane, che ne dici? Ok, prendiamo tre di questi panini E' bello caldo? Mmm, buono! Allora, volevo prendere queste patate da fare nel forno Tagliate, sono piccole piccole Le taglio a metà e le metto in forno Vengono proprio buone Farete quasi ne prendo due perché siamo in tanti E quindi Ce ne vogliono due Ok Max Oh no, devo sostenerti lì scontati Anche questa che è scontata mi piace molto Quindi la prendo La salata è speziosa Dove sei? Qua Allora, prendo questi perché dobbiamo andare a festeggiare un compleanno Li portiamo? Eh, il compleanno di Renato Portiamo i cioccolatini? Sì Per l'annore Renato che compie 70 anni Max, le prendiamo queste XXL Fa un bauletto per Nico Max sta consultando il coupon perché gli sembra ci fosse del salame scontato Io comunque, essendo weekend, poi guarderei anche le offerte di Super Weekend Trovato? Salametto Ah, ok Va bene Via, stiamo finendo il parmigiano grattugiato Lo prendiamo? Sì Ha fatto sì con la testa Ok Eh, prenderei questo Eh Poi, vediamo un po' Qui c'è qualcosa che ti interessa Che dici? C'è qualcosa che ti interessa? Ah, io ho visto che c'avevo forse L'edam L'edam scontato? L'edam scontato ce l'avevo io Che stella potesse mangiare tra l'altro Lo introdiamo perché è fondamentale Sì Puoi mangiare, ok Prendi quello Poi devo prendere una cosa di passata Prendiamo questa qua Ok Ottimo Questo qui è quello che abbiamo gratis Uno A scelta Scegliamo questo Questo qui anche Voilà Avevamo detto che dovevamo prendere le lenticchie Sempre con Buono Uno sconto Per un pezzo No, un sconto Un pezzo gratis Scegliamo le lenticchie rosse Devi sempre parcheggiarle in modo che veda, vero? Eh sì Ok Riprendiamo la salsa rosa Salsa rosa Sì, 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 sì Eccola qua Ketchup Eccoci Non scappare fuori Qui Ok Andiamo avanti Sono qui anch'io Ok Guida Sì Surgelati Surgelati Ricky aveva chiesto una pizza diavola Tu se c'è qualcosa che ti interessa Qui ci sono le cose al 30% da consumare presto Sì, sì Spingo io e tu prendi il carrellino Sì Uh, ce l'ha Una bella spesa Ecco, ho lo sconto Già questo qui da 2 kg Vedi, con la Lidl Plus Riso Roma Ah Ok Spaghetti Questo abbiamo in coupon Poi Ha telefonato Ricky che vorrebbe il pane per hamburger Quindi siamo giusto qua Voilà Manca il pesto che invece voleva Max Ecco, anche questo C'è un po' Lidl Plus Prosciutto di Praga Vediamo se ne troviamo uno Non troppo Grassoccio Questo Ok Voilà Preso il pesto È qua, guarda Sì, non so come quale È questo di solito prendiamo Sì Controlla che se è quello senza aglio Che di solito preferiamo senza aglio Con aglio Con aglio C'è il cosino verde Quello senza aglio Eccolo lì Ok Aggiudicato È finito, no? Ok Ovviamente poi Vogliamo sapere Cosa pensate del totale Andiamo a prendere un minestrone Via Sì, interessata Dunque, dunque Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qua Questo Che differenza c'ha? Minestrone di verdure Ah 14 o 16 verdure Vabbè Andiamo di 16 Viziosi Max sta cambiando la confezione Perché Era un po' aperta Guarda Ti ho preparato per pancake scontato Quando scade? Agosto 24 E allora lo prendiamo Ah, perché non li A volte mettono qua le cose Che non è che sono in scadenza Ma semplicemente Non le stanno vendendo più E quindi Le ultime le mettono tutte qua Perciò Guarda se c'è qualcosa Che è interessante Per farli male Perché li avevamo già presi E vuoi prenderli quindi? Bene Poi Qua cosa c'è? Ehm Il pannolino Non ci servono Quello? C'hanno le uova Ah, mannaggia Ehm Beh, però Ascoltami Adesso Stella Sta vivendo una settimana Se vuoi prenderli Ehm Ne dobbiamo Ehm Poi Poi Ah Questo Prendiamo a Susana Anche questo non è male Polenta Taragna Così cosa la prenderei? Wow Bellissimo A posto Qui c'è una tisana Ma tisana ne abbiamo tantissime La roba di Halloween Ok Presto al tonno Questo sembra interessante Questo sembra interessante Eh, vuoi prenderlo? Sì, assolutamente Ok Bene L'abbiamo riempito Due dei miei studi preferiti Ok Direi che possiamo Ritenerci soddisfatti Questa cos'è? Qua sotto cos'è? Anice stellato Non fa per me Odio l'anice Si fa fare le carezzine Buongiorno Andiamo Andiamo alla cassa Che mi sembra anche abbastanza vuota Un bel malloppone di spesa Tata Indovina la spesa Poi la mettiamo sul tavolo Così Si capisce meglio Cassa Siamo qua Tutti qua Abbiamo riempito Tutto sto carretto Ma l'inverosimile E anche un sacchetto extra Il carico è notevole Questo Guarda Scoppia il carretto Anche il sacchetto è super pieno Soddisfatta via Anche se non per te Non abbiamo preso niente Stavolta Andiamo Andiamo Ha trovato un legnetto Siamo tornati Queste sono le ultime cose Sacc Ok Adesso Dovete Indovinare la spesa Vi faccio una carrellata E poi Ciao Enna Ciao Nico Buon appetito Una carrellata Sulla spesa E poi Indovinate quanto abbiamo speso Salame Pizza Prosciutto Cotto Arrosto Polenta Succo Succo d'arancia Noodles Patate Pane Minestrone Cioccolatini Belga Biscotti Pane d'hamburger Lenticchia rossa Salsa rosa Sal Dunque Spaghetti Pesto Mirtilli Pane Insalata Patatine Ketchup Preparato per Cancake Passate di pomodoro Quattro confezioni Ognuna da Abbastanza grandi Sono da 200 grammi Di grana Due chili di riso Due confezioni di Edam Brownies Credo che ci sia tutto Quanto abbiamo speso? Ciao Alla prossima Spesa